Atena Lucana, 32enne salese arrestato per spaccio di droga nella sua abitazione rinvenuti. Atena Lucana, 32enne salese arrestato per spaccio di droga e materiale per il confezionamento. Sala Consilina, contrasto al fenomeno dello spaccio davanti alle scuole, il comune destinatario dei fondi del Ministero dell'Interno. Sicurezza stradale, da lunedì lavori sulle strade di Polla e Salvitelle. Sant'Arsenio, l'associazione Montepruno Giovani a confronto con la sociologa e criminologa Miriam Russo per approfondire il tema delle dipendenze e della violenza. Nocere Inferiore rubano arnie con api, arrestate due persone anche per uccisione di animali altrui. Eccoci ben trovati al nostro telegiornale in apertura. La cronaca aveva adibito la sua abitazione ad un centro di smistamento per la droga. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un uomo salese domiciliato ad Atena Lucana, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. Un 32enne di Sala Consilina, ma domiciliato ad Atena Lucana, è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una curata indagine da parte dei militari dell'arma ha infatti consentito di scoprire e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina, oltre che materiale per il taglio ed il confezionamento della droga. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina, nell'ambito di una più articolata attività, volta al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente sul territorio, che ha consentito, nell'ambito dei controlli, di individuare il 32enne. I militari dell'arma, a seguito specifico servizio di osservazione ed appostamento predisposto nei pressi dell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, hanno notato un sospetto andirivieni da parte di più persone conosciute per essere assuntori di sostanza stupefacente. La consistenza dei movimenti faceva dunque sospettare che la dimora del 32enne fosse stata allestita ad aria in cui occultare e smerciare lo stupefacente a terzi. Pertanto gli operatori di polizia hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione, una decisione che ha consentito di rinvenire all'interno della casa la droga disposta in più parti su un tavolo della stanza, per un totale di circa 40 grammi di cocaina e 10 di hashish, unitamente al materiale vario per il taglio e il confezionamento, nonché un bilancino di precisione. La droga, rinvenuta già suddivisa in diversi involucri di cellofan, presumibilmente quindi pronta per essere immessa sul mercato, è stata sequestrata unitamente agli strumenti utilizzati per la sua preparazione. Stante alle risultanze investigative raccolte, l'uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lago Negro. La misura cautelare è stata successivamente convalidata dal giudice per le indagini preliminari. Il comune di Sala Consilina dichiara guerra allo spaccio davanti alle scuole. A breve telecamere di video sorveglianza saranno installate davanti agli ingressi degli istituti. Grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno, Sala Consilina rientra tra i 270 comuni in tutta Italia che hanno ottenuto il finanziamento. L'amministrazione comunale di Sala Consilina insieme alla Prefettura di Salerno avvia un progetto finalizzato a ridurre il fenomeno dell'uso e dello spaccio di sostanza stupefacente tra i giovani. Oltre 12.000 euro in arrivo per la realizzazione di impianti di video sorveglianza all'esterno delle scuole di Sala Consilina, grazie al progetto realizzato in accordo con la Prefettura di Salerno e che vede il centro valdianese, tra i due soli comuni salernitani insieme a Monte Corvino Rovella, unico nel Vallo di Diano, ad aver ottenuto il finanziamento del Ministero dell'Interno nell'ambito del programma di interventi di scuole sicure 2022-2023 per l'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente nei pressi degli istituti scolastici. 270 comuni beneficiari in tutta Italia per il programma Fondo Sicurezza Urbana messi a disposizione dal Ministero dell'Interno e tra questi anche il comune di Sala Consilina con il suo progetto che prevede l'allestimento di aree video sorvegliate in tutte le scuole, dalle primarie alle superiori, che fungeranno in primis da deterrente allo spaccio di droga e di uso di sostanza stupefacente tra i giovanissimi, ma anche per individuare eventuali presenze che possano fungere da pericolo per i giovani. 14 le telecamere che saranno installate all'esterno di tutte le scuole salesi, grazie all'ottenimento dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno con il comune salese, che potrà beneficiare di un contributo pari a 12.571 euro assegnati nell'ambito di fondi per la sicurezza urbana. Il progetto inoltre prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra comune e prefettura in cui l'ente comunale, oltre ad assumersi l'impegno di produrre una relazione finale sull'esito dell'iniziativa, si impegna anche a produrre report mensili sull'attività svolta nel corso dei mesi di attività scolastica. Cantieri aperti sulle strade della provincia di Salerno, diversi gli interventi in corso per migliorarne le condizioni. Lunedì partiranno lavori sulle strade di Polla, precisamente sulla SP 125 e a Salvitelle sulla SP 341. Cantieri aperti sulle strade della provincia di Salerno, diversi gli interventi in corso e in programma per migliorarne le condizioni. Nello specifico partiranno lavori a Polla e a Salvitelle. Palazzo Sant'Agostino ha annunciato di consegnare lunedì i due interventi di miglioramento della sicurezza stradale. Uno riguarda la SP 125 nel comune di Polla per un importo di poco più di 83.000 euro. L'altro è previsto sulla SP 341 nel comune di Salvitelle, qui per un importo di 127.600 euro. I lavori, spiegano dalla provincia, vengono consegnati presumibilmente il giorno 7 novembre. Il primo intervento, quello sulla SP 125, prevede l'integrale riqualificazione dell'asse stradale in ambito urbano di accesso al centro abitato, ovvero dall'ospedale fino alla fine della centrale via Curto, con il rifacimento del tappetino d'usura e risagoma del piano viabile per un tratto di circa 600 metri, compresa la riqualificazione della segnaletica orizzontale, verticale e in particolare delle intersezioni stradali. Il secondo intervento, invece, è sulla SP 341 nel comune di Salvitelle. Anche qui sono previsti lavori di rifacimento integrale della pavimentazione per un tratto di circa 1.630 metri, con risagoma in tratti saltuari, in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura, con la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale e in particolare dell'incrocio con la SR 94B. Sulla SP 341, Salvitelle Caggiano, le condizioni dell'arteria sono particolarmente critiche. Sono diversi i punti che risultano interessati da smottamenti e piccole frane che rendono pericolosa la viabilità su quel tratto. necessita infatti di interventi, presentando una situazione di viabilità compromessa. In tema di sicurezza stradale, per il piccolo comune, la situazione critica non essendo messe meglio, le altre vie di collegamento, come la SR 407 Buccino-Salvitelle-Vietri, con frane e smottamenti, è uguale situazione per la ex SR 94 Salvitelle-Auletta. Nella serata di ieri, presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio, l'Associazione Montepruno Giovani, preseduta da Sebastiano Greco, ha ospitato la dottoressa sociologa e criminologa Miriam Russo, per un incontro formativo e informativo che ha permesso di prendere coscienza del mondo delle dipendenze e gli effetti prodotti sia sulla persona coinvolta, sia sulla società in generale. Nella sua relazione, la dottoressa Russo ha trattato in maniera dettagliata le varie forme di dipendenza, quali droga, alcol, social, alimentazione e altre, analizzando gli effetti sulla persona. Un appuntamento di grande interesse realizzato grazie al sostegno della Banca Montepruno, che non ha voluto far mancare il suo supporto per l'impegno da sempre manifestato nella valorizzazione dei giovani, sostenendoli nella crescita e nella diffusione di valori sani e anche per il ruolo importante che simili appuntamenti possono rivestire nella costruzione di una società migliore. A concludere i lavori, il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, che riprendendo le tematiche discusse ha esortato i giovani dell'Associazione a continuare in questa direzione in modo da sensibilizzare la popolazione su temi di strettissima attualità. Ha sottolineato inoltre l'esigenza del confronto continuo tra le varie generazioni affinché situazioni di malessere legate alle dipendenze possano essere affrontate tempestivamente prima che sfucino in gesti delittuosi. Ascoltiamo le interviste realizzate al Presidente dell'Associazione Montepruno Giovani, Sebastiano Greco, e alla dottoressa Miriam Russo. Questa sera, come dice anche il titolo della locandina, parleremo di social, di giovani e di dipendenze. Sicuramente affronteremo delle tematiche molto importanti e sul concetto delle dipendenze avremo un raggio specchio proprio perché parleremo non soltanto delle dipendenze classiche a cui siamo più abituati a sentire come possono essere le sostanze psicoattive oppure il fumo oppure il tabacco o anche la ludopatia che sta sempre più diventando diffusa. Ma incontreremo altri tipi di dipendenze quali la dipendenza da lavoro, la dipendenza d'esercizio fisico, la dipendenza dal cibo che spesso viene sottovalutata però porta davvero delle gravi conseguenze come possono essere l'anoressia, la bulimia oppure l'obesità. Incontreremo vari tipi di macroargomenti molto attuali che spoceranno anche in tematiche come la violenza di genere, gli stereotipi di genere e l'importanza dei giovani con il rapporto con i social che molto spesso, soprattutto in questo periodo post-pandemico, i giovani hanno cercato una via di fuga da questi social però purtroppo molte volte hanno trovato dall'altra parte un potenziale adescatore che ha portato davvero conseguenze molto gravi. Vedremo nell'ultima parte delle slide della presentazione che mostrerò come facendo un'indagine su quello che è il nostro territorio, quindi la provincia di Salerno, il tasso di criminalità è sicuramente molto più avanzato, anche il tasso di solitudine è molto più avanzato e appunto molte di queste persone che non si sentono ascoltate e cercano degli approcci, cercano appunto delle confidenze in persone purtroppo sbagliate perché molte volte quando parliamo di virtuale, quando parliamo di web, si celano dietro questi schermi persone totalmente sconosciute. Il convegno di oggi è appunto moderato da una giovanissima, la consigliera Anna Maria Lotierzo e portato avanti da una relatrice, anch'essa molto giovane, la dottoressa Miriam Russo, sociologa e criminologa. In questo incontro di oggi abbiamo voluto innanzitutto fare una distinzione particolare tra i vari tipi di dipendenze che possono colpire i vari giovani di tutte le fasce d'età e poi come possono sfociare queste dipendenze in violenze di genere, in episodi di violenza al limite, dall'alcol alle smart drugs, dall'abuso di social media, quindi l'utilizzo sbagliato dei social media dei networks, fino ad arrivare alle dipendenze più comuni che possono essere il sovrallenamento o la dipendenza che spesso più sottilmente colpisce i giovani che iniziano a lavorare, quella lì da over lavorativo. Tendiamo anche un po' la responsabilità come associazione giovanile di un istituto bancario che crede fortemente in principi e valori che da oltre 60 anni caratterizzano l'operato di un istituto finanziario ed economico su questo territorio, sul territorio da dove ha origine, sentiamo una responsabilità forte e questa responsabilità la mettiamo in campo appunto portando avanti quei principi e quei valori di cui la Banca Montepruno ha fatto sua e continua con il suo operato giornalmente e quotidianamente attraverso di noi, attraverso il circolo Banca Montepruno a tramandare e a portare avanti dovunque va e dovunque porta cultura. Avevano rubato sei arni in legno, hanno cera inferiore, contenenti famiglie di api. Due giovani di 32 e 27 anni sono stati sorpresi e arrestati in flagranza di reato. Sono ora i domiciliari, alcune api sono morte, devono anche rispondere di uccisione di animali altrui, un reato previsto dal codice penale. Avevano rubato sei arni in legno, contenenti famiglie di api. Due giovani di 32 e 27 anni sono stati sorpresi ed arrestati in flagranza di reato dal personale del commissariato di polizia di Nocera Inferiore, fermati a bordo di un furgoncino dopo aver commesso il furto all'interno di un fondo dove si pratica apicoltura. In particolare nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto del fenomeno criminale dei furti in abitazione nei fondi agricoli, che di recenti ha avuto un incremento nelle zone periferiche della città di Nocera Inferiore, il personale della squadra volante della polizia è riuscita ad intercettare e bloccare in località Fiano un'autovettura, un Fiat Forino di colore bianco sospetta, con due persone a bordo. All'esito di un controllo accurato, i poliziotti hanno trovato occultati sotto un telone posizionato a copertura del pianale posteriore del veicolo ben sei arnie in legno contenenti famiglie di api, asportate poco prima da un vicino fondo dove si pratica l'attività di apicoltura. I poliziotti hanno accertato che le bocchette di uscita delle api dalle rispettive arnie fossero state sigillate utilizzando una schiuma espansa. L'azione ha tra l'altro creato uno stato di sofferenza per i piccoli animali e la morte di alcuni di questi. Per quanto accertato e considerato mezzi e circostanze del fatto per il valore dei beni asportati, i soggetti sono stati arrestati. Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e informato dell'avvenuto arresto ha disposto al termine delle attività e degli accertamenti di rito la traduzione degli arrestati presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalide della celebrazione del rito direttissimo. Gli arrestati è stato anche contestato il delitto di uccisione di animali. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati a Caggiano. Sono stati riaperti i termini per chiedere la riduzione della tarice. C'è tempo fino al 10 novembre. A Caggiano sono stati riaperti i termini per chiedere la riduzione della tari. Ora c'è tempo fino al 10 novembre. L'amministrazione comunale, per consentire al maggior numero di cittadini di partecipare, ha prorogato la scadenza per la presentazione della domanda relativa all'assegnazione di agevolazioni sulla tassa rifiuti annualità 2022 per le utenze domestiche. Una riduzione che andrà dall'80 al 20% per quattro diverse fasce di ISEE e che, si precisa, sarà applicata solo se il soggetto richiedente è in regola con i versamenti tari precedenti. Entrando nello specifico, le famiglie potranno chiedere una riduzione pari all'80% se hanno un ISEE fino a 6.500 euro, del 60% con ISEE fino a 8.500 euro, del 40% con ISEE fino a 10.000 euro e del 20% con ISEE fino a 12.000 euro. Stiamo vivendo, spiegano dal Comune, un periodo storico molto difficile, con eventi negativi che stanno procurando un enorme aumento delle bollette dei prezzi. L'agevolazione per l'anno 2022 sarà concessa a seguito della redazione della graduatoria dei beneficiari formulata sulla base del valore ISEE e fino ad esaurimento dei fondi disponibili che, precisano, sono pari a 8.500 euro. La spesa è finanziata mediante l'utilizzo dei fondi propri disponibili del bilancio comunale e del corrente esercizio. Gli interessati dovranno presentare la domanda, ora entro il 10 novembre, sul modulo scaricabile online. Ieri, anche a Salerno, come nel resto del paese, la tradizionale cerimonia per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate organizzata dalla Prefettura in ricordo dell'armistizio di Villa Giusti che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale. Ha preso il via da Piazza Vittorio Veneto a Salerno l'insieme di eventi per celebrare anche nel Comune di Salerno la giornata delle Forze Armate dell'Unità d'Italia. Qui, nei pressi della stazione ferroviaria, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, in compagnia dei vertici militari, ha deposto delle corone dall'oro al Monumento dei Catuti per poi spostare le celebrazioni all'interno del Teatro Agusteo con la lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. In questa giornata rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico, ha ricordato il Presidente della Repubblica. Il 4 novembre richiama con rinnovata commozione le tante vite spezzate durante gli aspri combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Continua il messaggio del Presidente della Repubblica, un conflitto che lacerò e devastò l'Europa intera. Fu una grande prova per i tanti che, provenienti da ogni angolo del Paese, affratellati sotto il tricolore, con coraggio ed eroismo, ricongiunsero Trento e Trieste alla nazione. Ed anche il prefetto di Salerno, Francesco Russo, nel suo intervento non ha mancato di rivolgere un pensiero all'unità d'Europa pensando alle difficoltà dell'attuale contesto con la guerra in corso in Ucraina. Certo, la memoria è fondamentale. Noi ricordiamo soprattutto tutti i catuti delle guerre nella giornata di oggi, quindi da questo punto di vista è una giornata cruciale perché ne abbiamo avuti tanti nel processo di unificazione del Paese durante la Seconda Guerra Mondiale per cui è assolutamente importante. E poi chiaramente in questo noi con il pensiero va a tutti coloro i quali hanno sacrificato la loro vita nella costruzione della democrazia della nostra Repubblica e che anche attraverso questo lavoro quotidiano poi sono state vittime di fatti criminali che sono accaduti negli anni. Quindi è un pensiero comune a tutti i nostri defunti per la libertà e per la nostra patria. Di questa giornata, in questo momento storico forse l'aspetto più rilevante, perché questa è anche la giornata dell'unità nazionale è proprio quella dell'unità, l'unità dell'Italia, l'unità dell'Europa in questo momento così complesso in cui effettivamente ci sono anche delle difficoltà determinanti dalla terribile guerra che c'è sul territorio ucraino e sono venute fuori anche in qualche modo, qualche volta anche degli egoismi e cose, è proprio necessario superare tutto questo ed avere una strada comune, unita, unitaria per tutti noi. Per questo, diciamo come dire, questa giornata è ancora più particolarmente simbolica in questo momento e quindi partecipiamo tutti quanti insieme a queste cerimonie con un afflato ancora più forte proprio perché ci troviamo in una situazione nuova, come ho detto anche in altre occasioni rispetto ad un lungo periodo post bellico in cui tutto questo non c'era, insomma quindi è opportuno viverla con grande impegno. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.